Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Scopriamo per scoprire con voi The Hat Man Shadow World. Si tratta, come vi avevo anticipato nello splendido video di Dispair, di un nuovo survival horror, per cui direi di non perdere altro tempo e speriamo di trovare finalmente qualcosa che ci permetta, chissà, magari di fare anche una bella serie, visto che sul canale non ne ho mai fatte, che sia questo il gioco ideale per cominciare, chi lo sa, io non lo so. Però, chi vuoi giocare? Padre o madre? Che dubbio amletico, subito. Padre, essendo uomo. Allora, dunque, siamo spiacenti di informarvi che la vostra figlia ha Virginia scomparso. È scritto bene. Non necessita di venire qui come abbiamo il nostro completo staff cercarla. Si potrebbe solo essere nel senso... Beh, io farei intanto un applauso al traduttore perché cazzarola non ho mai visto qualcosa scritto così di merda. Scusatemi se mi permetto, ma facendo anche quello di mestiere mi girano un po' quando leggo sta roba. Ma comunque, traduttore fenomenale a parte, cominciamo. Allora, qui c'è una porta che si riesce ad aprire. E già che si aprono le porte, stiamo a cavallo. Siamo in una sorta di manicomio. Io da quello che ho capito di questa lettera tradotta ottimamente, nostra figlia si è persa. E noi non dovevamo venire qua per cercarla, ma ci siamo venuti lo stesso. Qui le porte non si aprono, per cui possiamo provare a salire le scale. Un'altra porta che non si apre. Porte dei bambini con un tearing schifoso. Io non capisco perché questi survival horror non c'hanno mai mezza cosa fatta di narrazione. Non parla nessuno, non c'è mai niente. Mi ritrovo sempre all'interno di ambientazioni completamente vuote, con sedie che mi fanno compagnia, sedie di tutti i tipi. Solo sedie, sedie, giornali. Qui manco la sedia, cioè. Mamma mia. Non si può fare una mazza, posso solo saltare. Ma perché? Comunque è allucinante che non si riesca mai a trovare nulla da fare in questi giochi, maledetti. Beh, comunque devo dire che promette, promette già molto bene, eh. Da questo inizio, devo dire che con gli horror sto avendo una fortuna pazzesca. Perché non c'è verso di trovare qualcosa di neanche lontanamente giocabile. Porco Giuda. Orsacchiotto. Ti posso prendere? No. Foto. Oh, un libro. Mamma mia, un libraccio. Era il libro della morte. Oddio mio. Bene. È cambiato tutto. Completamente tutto. E io già cominciavo in l'ansia. Se non fosse che io per vedere l'inventario abbiamo la nostra solita splendida torcia e l'inventario ha una mano e una sorta di macchina fotografica con la luce appiccicata sopra. Complimenti anche qua. Allora. Abbiamo raccorto qualcosa che non sapremo mai cos'è. Fondamentalmente da quello che sto capendo, il libro che abbiamo preso prima, premere J per aprire il journal. Allora, sto sdraiato, sveglio nel letto, il mio mal di collo, il mio mal di collo di dormire su un cuscino. Io non voglio sentire... Niente, con quella che mi parla sopra poi è uno spettacolo. Ho chiesto per un altro, ma ho bisogno di ordine di un medico per avere più di una. Il traduttore è un fuoriclasse. Il mio sonno medicina ha portato fuori. E io sono, ancora una volta, un prigioniero alla mia insonnia. Ho deciso, potrei anche iniziare a scrivere le cose come hanno chiesto. Prendo punti bonus verso il dessert in più. E qualcosa da fare per ora. Riesco a sentire la persona nella stanza accanto russare. Gente sussurrando e il telefono che squilla alla stazione di infermiere fuori. Sto ricordando il sogno avuto ieri sera dove un uomo alto con un cappello è venuto al mio capezzale e mi ha detto che mi avrebbe portato via presto. Sto facendo una nota mentale di parlarne al medico più tardi. La domanda è perché le accentate sono fatte di merda e perché il traduttore lavora. Vabbè, pagina successiva. Gruppo comunitario è finita. Non sono sicuro che pensavano avere pazzi, intrattengono, tradillu... Vabbè ragazzi, non si può leggere sta roba con tutto il bene che vi posso volere ma... se non si può veramente fare. È veramente ignobile quello che hanno tradotto. Ma spara pure sta pistola. Sì, sta pistola, sta luce. Io già so che tanto adesso sto facendo il figo che non si spaventa poi adesso appena appare tipo un pupazzo qualsiasi io comincerò a urlare come un bambino. Dunque, raccolse un'ascia. Vabbè, mo' andiamo pure sul testo dantesco. Stile dantesco di narrazione proprio. Ruppe porta! Questa sembra piuttosto forte. Chi? Il pezzo di legno? Mena? Ma chi l'ha tradotto sto... Io, io, adesso, finito questo video andrò a cercare il traduttore. Il nome del traduttore italiano perché lo voglio mandare veramente a quel paese. Sette. Ho detto sette. Non è un sette. Come cribbio la prendola. Lascia! Non si può prendere l'ascia. Uno, due, tre, quattro, cinque... E questo deve essere forse un set... E allora perché prima quando cliccavo non me lo dava io? Ah, madonna mia che nervoso queste cose! Wow! Un effetto straordinario. Me la fai riusare? No. L'ascia che si è devastata per aver colpito un pezzo di legno. Me ne dai la luce? Grazie. Ce la farà le nostre ore a vedere almeno un nemico? Almeno uno. Mamma mia. Vabbè, questa non si muove. Io continuo a camminare, che me frega. Corro? Sì, corro pure. Macchie di sangue. Pie... Un piedone. Sento variazioni sonore. Che preannunciano qualcosa di terribile. Che però, però, non vedo. Specchi che non sono specchi. Cosi che non si aprono. Io guardo su e non c'è niente. Sto iniziando ad agitarmi. Un pochino sì, devo dire la verità. Un pochino, pochino sì. Un pochino, pochino sì. Oddio, sti fottuti orzacchiotti, poi... Qui c'è un pezzo di giornale. Mi ricordo qualcosa del mio sogno. L'uomo con il cappello che indossava tutto nero. Anche il suo cappello era nero e la sua pelle era nera. E non vogliamo sapere che altro fosse nero. I suoi occhi. Non riesco a descrivere i suoi occhi. Era come non aveva occhi. È giustamente. Solo orbite vuote che mi sembravano tirando su la mia anima. Mi ricordo di essere così felice quando ha detto che mi avrebbe portato lontano da qui. Ma ora ho paura di dove mi potrebbe prendere. Chissà dove la prenderà. Dove glielo metterà. Chi lo sa. Mamma mia. Mamma mia. Dove mi potrebbe prendere? E mi potrebbe prendere... Oh, madonna. Beh, ma stai... No, vabbè. Non mi posso spaventare di fronte a sta roba perché stai veramente igno... Ti voglio vedere fino alla fine. Ma che faccia c'hai? Vabbè. Ha catturato la tua anima. Cazzo, è mo'. Eh, mo' è la fine. Ricominciare. Niente. Da capo. Siamo spiacenti di informarvi che la vostra figlia ha Virginia scomparsa. Vabbè, questa già ce l'hai detto. Io, ragazzi, c'ho il vago sospetto di aver trovato un'altra stronzata. Poi, ditemi voi... Eh... Perché, eh... C'ho questo vago, vago sospetto che non è che sia proprio tutto sto capolavoro o neanche questo, eh. Che poi il bello è che su Steam quando l'ho preso, questo gioco ho letto un po' le recensioni del pubblico e tutti parlavano di un gioco piuttosto vecchio sotto profilo tecnico e non è che la cosa ci preoccupi più di tanto ma parlavano di un gioco che faceva paura teoricamente no, ho sbagliato che avrebbe dovuto quantomeno agitare eh... e se quello è il mostro più angosciante che ci hanno da far vedere io credo che non è che ci spaventerà più di tanto così come non credo che ci faremo una serie su questo gioco perché perché se ne... addio che dire non voglio andare sul sul violento per cui evito di dirlo mo' si rompe la luce no voglio rivedere la faccia di gomma faccia di gomma non c'è più faccia di gomma niente corridoi su corridoi su corridoi su corridoi io non bagni 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 adesso abbiamo pure i bagni ragazzi è tipo il primo horror della mia vita che non mi sta facendo paura non so non so cosa dire qua un po' paura me la fa e infatti non entro eh... sedie ma c'è qualcuno con cui parlare qui no no siamo perennemente da soli che camminiamo peraltro in cerchio io sto vedendo sempre le stesse cose sento questa questo sibilio in sottofondo e... boh qui c'è una lastra i polmoni vabbè ragazzi io continuo a vedere i piedi sui muri ma oltre questo non... non c'è manco più faccia di gomma cioè mi hanno levato anche il... il mio amico faccia di gomma salutiamo insieme dai chiudiamo insieme il video voglio... voglio fare il saluto finale con faccia di gomma ah ecco vabbè leggiamoci gruppo comunitario è finita non sono sicuro che pensavano avere pazzi intrattengono vabbè ragazzi non se lo fa le traduzioni sono veramente incomprensibili per cui se deciderete mai di prendere questo gioco prendetelo e giocateci in lingua originale perché giocare in italiano equivale a giocarci in africano probabilmente per cui è abbastanza inutile avvalersi della traduzione tanto da quel che vedo non è che sia un gioco così complesso dal punto di vista linguistico e noi seguiamo il piede sedia a rotelle sedia un'altra sedia a rotelle un'altra una lettica corridoio infinito qua c'è il piede bagno bene sedie tavoli mamma mia ragazzi niente oh faccione di gomma salutiamo ecco che pa vabbè ragazzi io mi arrendo mi arrendo per cui vi ringrazio per aver visto questo video sono certo che non mi chiederete di fare una serie su questo splendido horror per cui grazie come sempre per avermi seguito fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo straordinario gioco e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti